Buongiorno, ci troviamo a Cave, in provincia di Roma, un paesino a 40 km da Roma. Allora, oggi è 3 maggio 2014 e mi trovo con una delle candidate della lista civica. Con Cave, bene in comune, per Angelo Luque, sindaco. Lei come si chiama? Come si chiama? Quanti anni ha? 8, 7 anni. Qual è il suo titolo di studio? Io sono laureata in sua stridenza, è specializzata e attualmente studio nell'ambito del management sull'istigo. Ah, interessante. Qual è il suo programma per questa opportunità elettorale del 25 maggio? Allora, il programma ovviamente è assolutamente tutto interessante, ma i miei punti a cui tengo di più sono innanzitutto la riqualificazione dei centri più attrattivi a livello turistico del paese, attraverso anche un miglioramento della viabilità e assolutamente un'attenzione più all'ambiente, per cui comunque siamo già un paese all'avanguardia per quanto riguarda la rafforza di Crenziata e altre iniziative. Cave è conosciuto per il paese dove praticamente il traffico passa al centro del paese e tutti coloro che devono recarsi da Roma a Fuget, percorrono tutti questi paesi, quando arrivano a cave si lamentano perché la gente non passa in mezzo alla strada, c'è traffico, quando ci sono le processioni, quando c'è un incidente, eccetera. Come riuscirebbe lei, visto che si vuole occupare della riqualificazione sulla viabilità, a migliorare questo problema? Allora, nel programma c'è appunto un punto di programma che riguarda proprio questo, infatti ci saranno dei nuovi, sia sensi unici o comunque delle nuove riabilità, delle strade che verranno aperte o comunque dei sensi che verranno spostati per migliorare questo problema, perché in fatto è vero che la città del momento ha una sola linea di collegamento, ma anche per quanto riguarda il quartiere specialo comunque ha avuto un miglioramento con la creazione di una rotonda e quindi si sta migliorando e si migliorerà assolutamente questo punto. Bene, questo ovviamente per la riqualificazione. Parlando di un altro commento importante, cave è conosciuta per essere la fonte di Santo Stefano, nei libri di Catullo veniva indicata, c'è una fonte meravigliosa con delle proprietà particolari, quali sono le proprietà della fonte di Santo Stefano per il quale l'acqua fiuggi veniva e imbottigliava l'acqua e la vendeva per acqua fiuggi. Sì, in pratica la fonte di Santo Stefano ha un'acqua curativa, perché in pratica è un'acqua a basso residuo fissa, a basso contenuto di sogno, quindi molto leggera, che viene utilizzata anche per fiumi terapeutici, sia per la curazione generica dell'organismo, sia anche per curare malattie uguali ai talcoli renali o altre malattie che hanno bisogno di questo. Bene, concluda, bisogna votare per Sandra e per Schiava Noemi, Schiava Noemi, Concava e Benecomune, Angelo Di Sindaco. Un attimo di pazienza, 5 secondi ulteriori, come si deve votare? Si sceglie la lista? Allora, si fa una croce sulla lista. Quale lista? Concava e Benecomune, per Angelo Di Sindaco, poi si sceglie un candidato e si ha la possibilità di scegliere un candidato uomo assieme a un candidato donna. Ma mi raccomando, non votare due donne o due uomini, altrimenti il voto è nullo. Quindi si possono dare due preferenze? Due preferenze. Quindi si sceglie la lista, si scrive Schiava e eventualmente un altro uomo. Un candidato uomo, oppure un candidato solo uomo donna. Uomo donna, grazie.